E' uscito il nuovo e imperdibile album di Nico Senatore, voce, cuore e musica. Un giovane emergente che si sta facendo strada nel panorama partenopeo. Arrangiamenti curati dalla Panastore Record. Arrangiamenti curati dalla Panastore Record. Arrangiamenti curati dalla Panastore Record. Dieci brani che ti faranno emozionare. Produzione discografica Mea Sound.